Si continua a lavorare alla realizzazione di adempimenti necessari a favorire gli spostamenti di persone con difficoltà motorie. Proprio la spiaggia di Punta Secca, Santa Croce e Camerina, viene definita adatta ai disabili, con scivoli in Piazza Faro e vicino casa del commissario Montalbano. Proprio in questa spiaggia, accanto a Piazza Faro, è stato di fatto allestito uno spazio, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, proprio per i disabili, per così farli trascorrere serene domeniche al mare. Questo è reso possibile grazie all'assistenza di volontari a loro disposizione, che hanno anche previsto un gazebo per potersi riparare dal sole. La sedia Job è difatti una sedia adatta al trasporto dei disabili o degli anziani, sia al mare che sulla neve. Inoltre l'Associazione Volontari del Soccorso si sono dedicati anche al servizio di trasporto da e per il mare e all'accoglienza di questi soggetti. Questo vuole essere solo una delle prime iniziative per favorirli, infatti si confide in altri progetti dediti al loro supporto. Si pensa anche ai prossimi interventi, infatti il Comune di Santa Croce e l'Associazione, oltre all'ostacolo, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per l'abbattimento delle barriere architettoniche in città e nello specifico in Piazza Vittoria Emanuele e in prossimità degli accessi alla Chiesa Madre. Tre pedane previste anche per accedere alla Prefettura di Ragusa ed anche un sollevatore automatico. Queste opere sono state possibili grazie ai finanziamenti di privati e alla raccolta di tappi in plastica. Ciò vuole essere un operato frutto di un gesto di sensibilità e civiltà.